Ti rendi conto vero che non potremo mai essere amici? Perché no? Beh, ecco, e guarda che non ci sto provando in nessunissimo modo. Uomini e donne non possono essere amici perché il sesso ci si mette sempre di mezzo. No, non è vero. Io ho tantissimi amici maschi e il sesso non c'entra per niente. Non è così. Sì, invece. No, invece. Sì, invece. Tu credi che sia così? Stai dicendo che io ci vado a letto senza accorgermene? No, sto dicendo che loro vogliono venire a letto con te. Non è vero. È vero. Non è vero. È vero. E come lo sai? Perché nessun uomo può essere amico di una donna che trova attraente. Vuole sempre portarsela a letto. Allora stai dicendo che un uomo riesce a essere amico solo di una donna che non è attraente? No, di norma vuole farsi anche quella. Ma se lei non vuole venire a letto con te? Non importa perché il click del sesso è già scattato. Quindi l'amicizia è ormai compromessa e la storia finisce lì. Credo che non saremo amici allora. Credo di no. Ah, è un peccato. Eri l'unica persona che conoscevo a noi. Non è vero. Ma è un peccato. È un peccato. È un peccato.